Buongiorno a tutti, benvenuti in questo video di presentazione dell'aggiornamento 1.28 delle gallerie. Oggi andiamo a vedere un miglioramento che è stato davvero molto richiesto, e cioè di poter configurare all'interno della galleria, oltre alle foto digitali incluse, anche dei prodotti fisici inclusi, delle stampe, degli album. Abbiamo rivisitato il modo in cui avvene la configurazione per renderlo più completo. Ora invece di trovarla nel modulo di creazione delle gallerie, la configurazione si trova in una scheda che si chiama prodotti. Accedendo a una galleria vediamo questa nuova scheda prodotti dove possiamo andare a configurare i prodotti inclusi nella galleria. La parte di sinistra è per le foto digitali, mentre la parte di destra sarà per i prodotti fisici. La parte di sinistra non cambia molto, è quello che già si poteva fare nella finestra di configurazione della galleria. Possiamo per esempio andare ad aggiungere una foto digitale in alta risoluzione. Andiamo a dire che in questa galleria ci sono due foto incluse. Quello che cambia è la colonna di destra. Possiamo adesso andare ad includere dei prodotti fisici all'interno della galleria. Possiamo dire che per esempio in questa galleria inclusa c'era una cornice 60x40 e andiamo ad aggiungere anche delle stampe classiche 10x15, andiamo ad aggiungerne 5. In questa finestra possiamo anche andare a cambiare quello che è il catalogo associato alla galleria. Io adesso ho questo catalogo, però se per qualche motivo voglio cambiarlo direttamente nella galleria lo posso cambiare qui. In questo caso la configurazione si perde e dovrò rifarla perché ovviamente i prodotti non sono gli stessi. Io adesso annullo e lascio la configurazione che ho appena salvato. E non è tutto, puoi anche configurare direttamente i prodotti inclusi in un modello di galleria. Andiamo per esempio a vedere un modello esistente. Allora avevo fatto un modello per le mini sessioni. All'interno del mio modello adesso, oltre al tema e al tipo di galleria, posso andare a configurare quali sono i prodotti inclusi in questa galleria. In questo modo ogni volta che creo una galleria posso direttamente importare il mio modello e questo mi permette di creare automaticamente una galleria con un certo tema, con un certo modo di lavoro e soprattutto avere già tutti i prodotti inclusi in quel tipo di galleria. Infine abbiamo migliorato come il cliente può vedere i prodotti inclusi all'interno della galleria. Torniamo alla mia galleria, la visualizziamo e ora abbiamo aggiunto questa piccola icona col pacco regalo che indica al mio cliente quali sono i prodotti inclusi in questa galleria. File digitale, cornici e stampa. Selezionando il mio prodotto mi si apre una finestra dove potrò andare a scegliere i file inclusi nella mia galleria, andiamo ad aggiungerne due, nel momento in cui ne aggiungo due posso aggiungerli al carrello e vedrò che sono i miei due file inclusi e se apro la mia finestra i file digitali inclusi sono stati scelti. Abbiamo anche reso migliore la visualizzazione da parte del cliente nel caso in cui tutte le foto siano incluse. Andiamo per esempio, torniamo a prodotti, andiamo a dire che in questa galleria tutti i file sono inclusi, aggiorniamo e ora aprendo i prodotti inclusi nella galleria posso vedere che tutte le foto sono automaticamente incluse e il cliente potrà scaricarle tutte oppure direttamente una per una nella galleria. Spero che questo aggiornamento ti sia utile soprattutto adesso con l'arrivo delle sessioni di Natale e niente, a presto per altre novità fotostudio. A presto! A presto! Grazie a tutti.